Il ristorante del Club Nautico di Pesaro riapre ufficialmente. Lo storico locale del Circolo Portuale torna a splendere tra tavoli con vista mare e piatti della tradizione marchigiana, con protagonista la cucina di pesce, ma anche spunti di carne e possibilità di pasta senza glutine. Riprende vita sotto la gestione di Gianluca Giovanelli, amministratore delegato e Luigi Longobardi come chef. Il tutto in collaborazione con l'Osteria della Peppa e Villa Marina, fondati e diretti da Mirko e Martina Carloni. Significa innanzitutto una grande sfida e opportunità per noi, per me e per i miei soci Martina e Mirko. Io collaboro con loro ormai da tanti anni e abbiamo avuto l'opportunità di prendere in gestione il ristorante del Club Nautico, quindi è una bella sfida. Noi entreremo nel mondo di Pesaro con la massima umiltà, ma con sapevolezza dei nostri mezzi e cercare di accontentare tutte le richieste dei soci e dei nostri clienti, cercando di partire dalla tradizione. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di far mangiare e assaggiare tutti i piatti tipici della tradizione marchigiana, pesarese, dai piatti di pesce e in più abbiamo aggiunto anche qualche alternativa di piatto di carne e anche del senza glutine, quindi con la pasta fatta in casa senza glutine. La pasta, a parte quella senza glutine, la pasta normale invece sarà quella della pasta della Peppa, che è tutta pasta a mano tirata a mattarello. Il ristorante è per i soci e quindi possono venire a mangiare tutti quanti che siano soci del Club, oppure i loro amici, ospiti. La quota della tessera è valida per tutto l'anno e una volta fatta la tessera si ha appunto l'accesso al ristorante come al bar di sotto per le collezioni e poi per gli aperitivi. Poi abbiamo in mente diverse anche serate da promuovere a tema. Già questo venerdì, il 18, faremo l'inaugurazione ufficiale, insomma, dove faremo una cena a menù fisso con un prezzo dedicato appunto ai soci, dove proporremo degli antipasti pesce, un bis di primi, dei secondi, dei dolci, tutto quanto compreso anche di vino in collaborazione con l'azienda di Sante e verrà direttamente appunto Tommaso che è il proprietario e faranno una degustazione dei loro vini in abbinamento con il nostro menù che proponiamo.